E con ASYSBOOK TV siamo sbarcati qui a Nova Gorizza con il mitico hotel Perla di fronte oggi in questi giorni ci sarà il The Game, un importante torneo con 200 euro di buy-in e tanti side che aumentano l'offerta ma cerchiamo di scoprire prima insieme per i pochi che non lo conoscessero che cos'è il Perla, l'unico hotel casinò che è paragonabile a una vera e propria Las Vegas d'Europa allora entriamo insieme all'interno dell'hotel di Nova Gorizza ad accogliere i giocatori per alietare anche l'immagine dell'hotel Perla, ci sono queste fontane, poi si entra all'interno dell'hotel da questa parte c'è la reception con le camere e uno dei tanti ristoranti qui al Perla ma noi entriamo direttamente all'interno del casino, qui c'è il ricevimento, teatro, cinema, discoteca insomma davvero non ci si può annoiare qui al Perla di Nova Gorizza noi però ci dedichiamo come sempre alla nostra poker room, questa è una delle più grandi poker room d'Europa allestita qua al primo piano del Perla, molto vicino a tutti gli altri giochi, molto vicino alle aree ristorante molto vicino anche agli altri giochi da tavolo, insomma per passare il tempo quando i giocatori sono nelle pause dei tornei oppure sono stati eliminati perché capita anche questo percorriamo quindi questa scalinata che porta direttamente all'interno della poker room dove sta cominciando proprio in questi attimi il primo torneo, il 6 max che inizia a introdurre l'offerta dei tanti side event per quanto riguarda il day game e poi l'appuntamento più importante sarà naturalmente questa sera alle 21 con il day 1A del main event del quale vi ho già parlato, questa è la sala del casino Perla dove tra poco i giocatori raffolleranno per il side event, il satellite e naturalmente il main event dell'event 1 tra pochi prossimi aggiornamenti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti